Ecco le case popolari, guardate, guardate che merda di case, guardate, guardate qua. Le case popolari dell'Atere del comune di Pescara sono state danneggiate da grandine pioggia, una situazione che si aggiunge a quella precaria di sempre, dicono i residenti. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari si è fatto portavoce degli abitanti di via caduti per servizio che hanno subito ulteriori danni dalle grandinate del pioggia degli ultimi giorni. In attesa di una nuova possibile perturbazione, i residenti non solo di questa zona ma anche di altre loggie popolari sono preoccupati. Loro stessi, in queste immagini, hanno documentato i danni delle grandinate, tetti sfondati e infiltrazioni d'acqua. Sì, la situazione qui è devastata. Abbiamo case letteralmente bombardate perché ci sono coperture che sono saltate. Qui già c'era un problema cronico, hanno fatto dei lavori a seguito delle nostre insistenze in regione, hanno sbagliato i lavori perché hanno fatto dei gradini allucinanti che non risolvevano il problema dell'infiltrazione. Adesso questa ennesima calamità, emergenza naturale, ha causato la perforazione di tetti, di soffitte e controsoffittature. I cittadini hanno l'acqua in casa, sono rimasti allagati. Il problema è quello che si verificherà oggi e nei prossimi giorni perché qui non è venuto nessuno. Quindi cosa chiediamo noi? La prima cosa è che l'Ater per quanto riguarda le case della regione Abruzzo, il Comune per quanto riguarda quelle del Comune deve venire con i propri tecnici fare una ricognizione, una verifica, per poter stilare le schede. Qui non si è visto nessuno e io faccio la differenza perché questa è un'emergenza maggiore. Io sono vicino a tutti i cittadini della regione Abruzzo ma l'emergenza maggiore è perché sono case di carta pesta, sono case fatte in maniera completamente sbagliata a suo tempo. Quindi queste sono veramente case che possono addirittura crollare a seguito di queste situazioni. Quindi si venga immediatamente per fare una relazione comune-Ater e inserirlo nelle schede. Qua non viene nessuno, sono scomparsi tutti quanti, sono tutti fantasmi. Non si è visto nessuno, io l'ho fatto presente ma non si è visto mai nessuno. Anche il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Pignoli ha incontrato gli abitanti delle case popolari. Il Comune cosa può fare? Il Comune per le case di proprietà comunale non cosa può fare, deve fare. Per cui chiederò nei prossimi giorni al sindaco e all'assessore competente un impegno formale di prendere soldi anche sul fondo di riserve e stanziare per l'immediata emergenza. Ci sono tetti aperti, persone che stanno ancora raccogliendo l'acqua, paura ovviamente smisurata perché anche manca l'energia elettrica. Per l'Ater il problema è interagire con il Presidente della Regione affinché faccia uno stanziamento straordinario che metta degli uomini, quindi più persone all'Ater perché queste persone non possono stare così. Che cosa accadrà se non lo fanno? Faremo una grande protesta dove raduneremo, radunerò tutti i residenti per sfilare in corteo e arrivare sia sotto il Comune che sotto l'Ater per sensibilizzare l'opinione pubblica. Guarda che razzi di lavoro qua, guardate, guardate qua, tutto bagnato, tutto, tutto, tutto.